Il progetto di adozione fotografica di Confartigianato va avanti da ormai 12 anni, dal 2006. Stiamo portando avanti questo progetto di documentazione del territorio e di lavoro di squadra proprio dei nostri fotografi. Quindi il nostro intento è di continuare nella documentazione delle varie vallate della nostra ricchissima provincia e di continuare questo lavoro di gruppo che per noi è molto importante per far coesistere e per far stare insieme gli artigiani anche della comunicazione. L'idea di questo progetto è comunque quella di far sì che ogni fotografo racconti attraverso il suo punto di vista, attraverso le sue esperienze, il suo vissuto quello che va ricercando, chi attraverso il food, chi attraverso le attività sociali del territorio, chi attraverso i paesaggi, chi attraverso gli altri lavori artigiani. Ognuno mette la sua esperienza all'interno di un'esperienza che si può vivere nel territorio. Abbiamo insieme alla Confartigianato messo insieme questa importante mostra che a noi ci fa piacere di avere qui nel nostro territorio e queste foto soprattutto dimostrano quanto è bello, quanto è importante, ma soprattutto la natura che circonda il nostro territorio, il nostro comune e su queste foto c'è tutto quello che veramente abbiamo intorno.